Questo appuntamento così importante qui è un po' per provare a rilanciare l'immagine di Roma che all'estero è stata purtroppo sporcata da queste brutte vicende che hanno infangato la nostra città. E per dirvi che Roma non è solo degrado, non è solo sporcizia e per fortuna non è solo mafia capitale. Anzi i partiti ci hanno insegnato che mafia capitale è una distorsione del sistema perché la politica ormai non la fanno più i partiti. I partiti hanno consentito che i mafiosi, la parte marcia di questa società, si sedesse al tavolo e decidesse per noi cittadini. Non è così. La politica a Roma la devono fare i cittadini. Come due cittadini che abbiamo qui oggi. Io sono una mamma, ho un'attività commerciale a Roma e mi trovo qui forse perché sono stanca della vecchia politica ma già da un po' di anni non mi ci rispecchio più, non mi ci ritrovo più. Vorrei portarvi l'esperienza di un cittadino di Malagrotta. Ogni cittadino europeo è il cittadino. Qui a Roma non è così. Le amministrazioni sono lontane. Ogni volta che abbiamo chiesto l'accesso agli atti o spiegazioni di quello che stava succedendo, delle verifiche che non venivano fatte, non ci hanno dato risposte. Forse la stampa estera e forse all'estero non capiscono cosa voglia dire prendere un autobus. Ma diciamo che a Roma noi ci troviamo di fronte a una sfida quotidiana. Prendo l'autobus e arrivo al lavoro puntuale, arrivo al lavoro, arrivo a scuola. Noi vogliamo cambiare completamente il sistema del trasporto pubblico. Abbiamo capito ed è sotto gli occhi di tutti il fallimento delle precedenti amministrazioni che hanno probabilmente fatto dei piccoli interventi spot che non servono in alcun modo ai cittadini e alla città. Non è giusto vedere queste biciclette che sfrecciano nel traffico sfidando effettivamente la sorte tutti i giorni. Vogliamo che Roma abbia una rete di piste ciclabili collegate tra loro in modo che i cittadini si possano spostare in sicurezza. Noi a Roma abbiamo una differenziata, probabilmente una percentuale che è anche corretta, ma una qualità di differenziata che non è affatto buona. E questo che cosa comporta? Comporta che i rifiuti continuano ad essere percepiti come un problema, come una cosa schifosa da tenere lontano, che sporca, che inquina il percolato, i rifiuti tossici. I rifiuti li dobbiamo ripensare, i rifiuti sono una risorsa. I rifiuti possono essere utilizzati come nuove materie prime. Se noi facciamo una buona differenziata abbiamo un'ottima materia prima seconda, si chiama. ossia una nuova materia prima che viene però dalla fine del ciclo di vita di un prodotto. Quindi noi non produciamo nuove materie prime, reimmettiamo nel mercato quello che già c'è. Sarà dura, però abbiamo la consapevolezza che le nostre mani libere, lo ripetiamo sempre, il fatto di non aver ricevuto favori e di non volerne ricevere, ci porterà a non dover rendere nulla a nessuno, se non a noi stessi cittadini.